Sono assolutamente contrario a quanto l'amministrazione di Milano sta decidendo sull'Ecopass. L'Ecopass fu introdotto dalla giunta di Letizia Moratti come sperimentazione per cercare di impedire ai veicoli più inquinanti di entrare in centro. Questo ha voluto significare che tanti cittadini, famiglie, anche con grande sacrificio, commercianti, artigiani si sono dotati di mezzi Euro 5 convinti che avrebbero quindi con questo investimento evitato di avere penalizzazioni nel loro libero muoversi all'interno della città. Ora è una sperimentazione che si è deciso che non fosse positiva per l'ambiente perché non è cambiato sostanzialmente la qualità dell'aria che respiriamo in centro e si è creato immediatamente al contorno dell'area chiusa da Ecopass una situazione di molto maggior traffico. Allora vedere adesso che tutti debbono pagare anche coloro che risiedono si ha soltanto diritto a 40 ingressi all'anno è una cosa veramente incredibile e anche chi ha dei mezzi Euro 5 non poter entrare ma dover pagare significa caricare di maggiori costi le famiglie, significa caricare di maggiori costi gli artigiani che per lavoro devono venire in centro anche perché se si guasta un lavandino un idraulico deve pure arrivare in centro ed è chiaro che scaricherà sul cliente questo maggior costo. I commercianti in un momento nel quale far ripartire il consumo interno è essenziale per la ripresa dell'economia nel nostro paese si troveranno ad avere meno clienti perché evidentemente si cercherà di andare altrove a fare acquisti o si sarà scoraggiati nel fare acquisti e a loro volta i commercianti saranno costretti a scaricare sui loro clienti questi costi aggiuntivi. Allora veramente non si può partire da una posizione ideologica e non considerare invece che questo è soltanto un mezzo per fare cassa. Credo che sia importante e questo è un fatto di metodo che l'amministrazione del comune di Milano, l'amministrazione di Giuliano Pisapia entri nella logica di un governo metropolitano per cui certe decisioni si prendono su una scala più alta, il che vuol dire coinvolgendo le categorie, il che vuol dire coinvolgendo i sindaci di tutti i comuni della provincia di Milano e naturalmente la amministrazione provinciale stessa. Invito quindi l'amministrazione del comune di Milano a riflettere perché non è possibile scaricare ulteriori costi sui nostri concittadini.